Elia, storia di un piccolo supereroe. Sono diventato un microbo, improvvisamente, inspiegabilmente. Non so dirvi esattamente come sia potuto accadere, ma alla mattina di settembre mi sono risvegliato un piccolo di lacunica. Il letto intorno a me sembrava un'immensa prateria popolata da strane creature e circondata da montagne di polvere. Per scendere avrei avuto bisogno almeno di un paracadute. Quando la mamma è entrata in camera, stridendo come un treno in corsa che frena all'improvviso e mi ha gridato, vengati dal migliorno! La colazione è pronta! La colazione è pronta! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.